FAMBUSH TREET 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 Bello ragazzi a tutti e a tutti e a tutti e benvenuti a raffiare io sono entrato su FIFA Valencia Levante e dobbiamo fare un po' di turnover perchè abbiamo un giocatore veramente non stanchi di più siamo avvisi abbastanza male ma d'altronde è così e... e... dobbiamo recuperare un momento veramente tragico perchè... nell'ultimo partito abbiamo fatto abbastanza cagare diluvia e... almestaje c'è una perturbazione continua almestaje da cent'anni che piove bene e si va Valencia si è flevante e teoricamente questo è un bel derby occio aia mamma mia che rischio subito subito un rischio incalcolable vai racchi no ma dov'è il rigore no non ho parole non ho parole non so dove ho visto la spinta non lo so gol del levante incredibile il primo tiro il primo fottutissimo tiro su un rigore che non ho capito ma dai ma per cortesia dai svegliamoci dai vai pacco il pacco scatenato il pacco scatenato ma la cagare incredibile un 1 a 0 vergognoso qua rischiamo il baratro eh fioi adesso si che lo rischiamo il baratro adesso si rischia il baratrus dai però mamma mia che due coglioni bravissimo vai fuego voglio il pareggio alla fine del primo tempo lo pretendo pallo figlio di una merda dai stronzo eh tra i cattivi Rakitic pacco 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 intrinare benissimo tira e c'è il gol del fegu subito pareggio del valessia cf grandissimo fegu e io me lo godo il fegu scusate ragazzi piccolo problema con il joystick grandissimo dai fioi dai cazzo svegliamoci fegu boom doppietta del porco 2 euro Valencia cf2 levante 1 fegu lì fegu lì fegu lì esplode esplode adesso il Mestaia esplode l'estadio Mestaia di Valencia sentite i tifoli stanno veramente si stanno gasando signori vai ragazzi vai Rachi vai Rachi vai Rachi negredo boom oh lo squalo ne credo 3 a 1 finalmente ragazzi anche se piove cielo sereno al Mestaia alleluia 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 mamma mia che rischiata deve essere 4 a 1 comunque dai finalmente un buon Valencia un buon Valencia un buon Valencia cf raga fuego un buon numero il fegu il fegu fa una cagata ma non possiamo dire niente al fegu che ci ha fatto vincere la partita andiamo a casa adesso andiamo a casa con 3 punti in saccoccia buona vittoria dai buona 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 uh madonna a caso sta arrivando un bel passaggio peccato yes tanti cambi anche in casa contro la spalla ma se siamo quarti a fine di questa partita ci spariamo la classifica e niente non stiamo andando malissimo in realtà però eh manca ancora quel qualcosa per poter lottare per lo scudetto anche se siamo fortunati il campionato è un po' livellato quindi possiamo ancora tornare tranquillamente in corso siamo già in corso per il titolo però sarà durissima con un atletico Madrid reale Barça però siamo sicuramente alla quarta forza ma possiamo essere ancora una sorpresa tanto rientra Laghero prova una squadra stanca ciò buono recuperiamo la palla invece no la recupera la seconda frazione un primo tempo veramente noioso la squadra è molto stanca nei turni infrasettimanali subiamo tanto bisogna cercare di fare almeno un golletto dai fioi ha penetrato Paco vai Paco ha penetrato il porco bello un bel tiro un bel regalo ha penetrato anche Fuego al posto di Gomez ma è un Valencia proprio pesante pesante fioi vai Paco non so a chi smistarla eccola qua vai per il fegu isco niente da fare la spalma se si è proprio barricato devo mettere ultra offensiva vai Aghero Aghero top Aghero super ma come ha fatto a prenderla quel porco schifoso vai isco pennella me la isco e la prende isco però e la prende isco ed entra nella splendidamente dopo fare una cazzata degna del miglior eh Bertolacci occio Beppe Araujo chi è parente di Leonardo Araujo no però fioi ma che spalma cioè vogliamo prendere sta palla dai cazzo con la spalma in casa non vince le grave eh fuorigioco del gran porco altro che Gran Canaria dai Beppe attenzione Aghero scatta come un porco vai Aghe vai Sergione rigore no ma cosa ma com'è possibile no vabbè basta me ne vado no Maria io esco no no ma che cazzata è no che ladrata che ladrata uh che ladrata no questa no questa non ha senso era un rigore netto ero già tranquillo avevo mollato anche il joystick no fioi la vergogna la vergogna proprio il cupolotto no pazzesco pazzesco no Maria io esco no 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 incredibile incredibile furto i tifoli sono sbigottiti sono scioccati sono sono rincoglioniti perché non sanno cosa dire un furto legalizzato una rapina organizzata proprio come l'euro dai veramente bestemmie in svizzero antico che non esiste fioi che non esiste in una lingua sconosciuta dai fioi era un rigore solare come non so neanche cosa fioi scusate sono un attimo nel panico perché devo vincere ma dai ma che pavio parte il cross adesso esco che riprendere gol dai vai esco che furto al Valencia che furto al Valencia CF hanno paura del Valencia il cupolotto ha paura del Valencia signori guarda 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 tutto è cambiato tutto è cambiato era il gol mamma mia Alves mi salva il culo no ma incredibile un rigore non dato che è più scandaloso del rigore di Ronaldo su Iuliano nel 97 e Inter Juve o del gol di Muntari o non so neanche di cosa dai dai fioi vai isco vai iscone isco per il fegu sfrutta la velocità fegu mamma che errore qua della s... non ci credo la spalla ma si è recuperata no 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 isco vai Orban gente nuova che si vede che c'è gente che non ha mai giocato però non erano morti Perez Fuego Fuego entra in area Fuego rigore ehi ancora ma dai no beh basta basta no basta due rigori non dati così no no non ci credo no non ci credo la rapina della vita il rapinotto no ragazzi no non si fa così non si fa così mi dispiace due rigori netti grandi come una casa dai isco vai Paco Aghero Aghero di rabbia Aghero tira una mozzarella in carrozza ma dai fioi è nervoso il Valencia sta prendendo due punti che sono sanguinosi proprio vai Fuego Aghero Aghero lento come un porco in carro niente ottantesimo abbiamo ancora 10 minuti attenzione viera ragazzi viera Isco Orban che è un po' cieco Alcacer Fuego Aghero no di là era per no vabbè ma basta mi rifiuto dai che sbagliano anche loro eh sono nervoso sono nervoso mi hanno rubato due rigori ma il primo è una roba che va al di là di tutto eh ottantacinquesimo un attacco totale non posso non vincerla questa che roba scioccante che le ho regalato un tempo per carità del signore ma il secondo tempo non ho parole va va ecco questa roba che non sopporto di FIFA il torello di mordo il torello di mordo dai dai in the box roba nostra calcio ad angolo dimmi che è angolo dai in the box in the box Isco tutti in the box bravissimo tira rigore no questo non era rigore mettila in mezzo Cristo ormai è sempre rigore per il cume Fuego ha l'ultimo respiro Mustafi ma proprio è lui è arrivato tira attenzione ancora Fuego Fuego finisce qua ragazzi puttana maiala non ho parole il Sociedad fa crollare il Sevilla ragazzi no non ho parole non ho parole cosa ho buttato via siamo terzi a 20 punti meno 5 dal Barca il Rayo Veicano incredibilmente secondo il Real Madrid in crisi nera siamo là ma che stagione ragazzi il Real Madrid per una partita in meno l'Atletico addirittura a due vabbè raga assolutamente il comandone veneziano furto al Mestaglia chung